Sicuramente Cioè quando ti giochi in mondiale poi è triste così Una cosa veramente mai vista Tutti i piloti secondo me cercavano di non farci male Bella a tutti ragazzi bentornati e ben ritrovati In un nuovo video qui con Starpad Siamo tornati dalle vacanze Sono tornato dalle vacanze Ho fatto una settimana in Grecia ragazzi Quindi è stato un po' È stato infortunato di noi Parecchio È stato un po' di delay per questo Ma comunque non manchiamo l'appuntamento con il video del mondiale Perché così possiamo parlare di quella pista di merda Di questo ultimo GV Veramente schifoso Triste Cioè uno si aspetta un ultimo GV A sette punti di distacco Tu dici cazzo Era una settimana che ero gazzato duro Gara non gara Anche perché non sapevamo come era Forse è una delle gare più brutte dell'anno Più passiva dell'anno Sicuramente Cioè quando ti giochi in mondiale poi è triste così Una cosa veramente mai vista Tutti i piloti secondo me cercavano di non farci male Ovviamente la gente sta con i remi in barca Alla loro velocità Passarsi in questa pista Era completamente impossibile Un po' la 250 è tutto diverso con Adamo però Piena di sassi Super monotraiettoria Nonostante ci provino Vedo che ci provano A fare qualche cosa Qualche feature diversa Però Ragazzi le piste del mondiale Con quei piloti lì Se non le fai belle larghe E belle diverse Varie Non si sorpassano Perché vanno tutti Sono tutti allo stesso livello Cioè non si sorpassano Tutti forti Se c'è la canale Ovviamente la traiettoria del canale È buona Una Due Ce ne hanno dieci Loro ovviamente prende Quelle due che vanno bene Quindi È un po' così La differenza con le piste Che abbiamo visto sulla sabbia magari Perché insomma Su Instagram C'è il video di Erling Non so se l'avete L'hanno visto Secondo me Sì l'hanno visto Qualche di uno L'hanno visto Perché è stato ricondiviso abbastanza Poi parli di queste cose qua Del tracciato Della sicurezza Che comunque viene a mancare Perché Non ha proprio senso La Genfelder mette le foto Delle pietre Sì Che si erano Che erano sfiorate Così mi dici Corre il regionale Ci può stare No Cioè No ma non ci sta neanche il regionale Cioè nel regionale Si corre sempre su piste Già fatte Sì Già lavorate Quello è vero Rilavorate Rilavorate Quindi tutto quello che c'era sotto Alla fine è affiorato Ti hai corso su una pista Che è appena stata fatta Cioè te lo puoi aspettare Che se un Ma un esempio è solo banale È solo la pitlane Ma secondo te Quei piloti lì No pensa Pitlane sul piazzale di Parrenza Mai vista Prima volta negli ultimi anni Cioè questa pitlane qua I piloti passano a 150 metri Praticamente nella pitlane E ovviamente Insomma Io penso che adesso Sono veramente poco Sì Poi Se mi curva verso destra Se mi curva verso sinistra Con la pitlane a destra Sono cose banali Che secondo me In un mondiale MXGP Con Basta Comunque anche aziende grosse Che ci sono messo dentro Potranno Ducati Così che vengono Per Secondo me è ora Di dare una bella regolata Cambiare qualcosina Io Non correrei mai più In piste del genere Non ha Non ha veramente Alcun senso Correre e fare un mondiale Che è una farsa Che Lo sappiamo tutti Che insomma Ha vinto il più forte Chiaramente Più costante Anche perché ha vinto dieci gare Come sempre Come sempre Però Queste ultime gare Ragazzi Sono una farsa C'è poco da dire Se avessero fatto Red Bud Shugal Milville Southwick Glen Ellen Poteva essere Iron Man Forse Vedevamo più battaglia Anche un bulk È sbattata in sala Sì Sarà bello O l'Europe O l'Europe Un po' too much forse L'Europe è successiva Per dire le gare Cade il cancello Di gara 1 MX2 Intanto Una buona cosa L'hanno fatta Perché comunque Non hanno chiuso I cancelli all'interno La partenza è bella Ci sta Questa prima parte Di gara È perfetta Tutto ok Fino adesso basta Inizia il primo disanno Già qua All'esterno Scavi elettrici Roll Cose Tirante C'è Bordello Vabbè Ok Chiudiamo la parentesi Di circuito Davanti Parte il nostro Langfelder Comunque si deve Assicurare la terza piazza Nel mondiale E la moto per il prossimo anno È certo Non ci sta per tanto tempo Perché viene subito Infilato da un arrembante Thibaut Benistante E anche Da Lucas Conn Che all'esterno Lo sfila Conn Sparando anche un po' di terra Sul drone Riesce a Passare Thibaut Benistante E si piazza in prima posizione Ritmo infernale Concludendo la manche Ha girato da solo Guarda che curva Ciao Adamo Cerca di Radrezzare una stagione Un po' Più che altro Per tornare a casa contento Torna a casa Per iniziare il lavoro nuovo Più che altro Per fare poi un bel nazioni Cazzo C'è le nazioni Le gare è super importante E si piazza in seconda posizione E finisce così la manche Quindi Ottima hard charge Per il nostro Andreino Lucas Conen Ultima curva Bello Stiloso Stiloso? No Stiloso Bello in moto? No secondo me No Non mi fia È aggressivissimo Non ha una bellissima guida La guida è una motocross Fa così Un po' grezza Ma non mi piace Però Non Cioè Appretto Non è cambiato La guida non è cambiata Da Pontegola l'anno scorso Quando abbiamo visto la mia volta Non è cambiato niente Aggressivo Ingressi in curva Bello steso Bello in piedi Forte Cioè Zero Diciamo che la velocità C'era già Due anni fa Prima manche Finisce con un The Wolf Che Cerca di tastare il terreno Settimo Va bene Vabbè Ci sta Quasi comprensibile Seconda manche The Wolf Centra la partenza Riesce a frenare forte Guarda come è entrato Conan Riesce a frenare forte E a Mettersi In testa Ma Conan A un certo punto detto Secondo me Gli dà la Botta forte Tu aspettavi la giga Una bottarella Una tolta di davanti Faceva sentire Cavale Parastelo Sì Senza capito Ti faceva perdere il davanti Perdi il lancio contro Vabbè Sì Perdi il davanti Ti rialzi decimo Vinci comunque il mondiale Sei a posto Però se mai Gli pieghi una forcella Brutto però Vinci così Ma invece Lucas Entra subito all'interno Subito dopo Cinque o sei giri Entra all'interno Si mette davanti Pensavo che Anche Lucas Compattasse un po' il gruppo Ma alla fine C'era poco da fare Non c'erano così pochi punti Per riuscire a vincere il mondiale Un Andrea Adamo che Tanto passa Zanchi Buonissima gara per Zanchi Da ricordare Il primo anno di mondiale Adamo parte male Molto male Recupera molto 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 Forte Chiude terzo La gara E secondo il GP Anche qua ragazzi Volevo un po' analizzare il momento Perché tu sei dietro a uno Ormai da un paio di giri Munch quasi finita Tu e quello davanti Entrate nello stesso canale Lui si pianta Tu hai la prontezza Di riflessi Di Addrizzare la moto Addrizzare la moto Uscire leggermente dal canale all'interno Prenderlo sicuramente Prenderlo Però puoi passarlo È una bella prontezza Che ragazzi Kaede Wolf È il nostro Campione mondiale MX2 World Champion Dopo Adamo è il secondo Campione mondiale MX2 di Starpad Quindi Certo A me piace anche particolarmente Molto molto contento Per lui al quarto anno In due e mezzo Si meritava Era veloce Nell'inizio dell'anno Impeccabile direi Ieri Ieri C'è il giorno prima della gara Sabato Il giorno prima della gara Ok 20 anni per lui 20 anni 20 anni Molto giovine Se lo meritava tutto Secondo me È una bellissima crescita degli anni Fatto qualche errore quest'anno Ma comunque È bella rossa La prima gara Quindi c'è poco da È entrato al mondiale a 16 anni Si Giovane e giovane Lo sviluppo c'è stato Certo Diverso Lucas Cone Che è entrato al mondiale a 16 anni Si E l'anno dopo Vince dei GP a manetta Chiaro Chiaro Ovviamente Però l'anno buono Sarà per con il prossimo anno Si è messo in mostra È velocissimo Non devo dire Secondo me The Wolf Da metà campionato in poi Ha cercato un po' di Mediare Gestire Giustamente Perché lo conosciamo Uno che cappotta A capposano lo stesso Però Vediamo la classifica finale Lucas Cone vince Il terzo GP in fila Con un 1-1 9 o 10 Ne ha vinte quest'anno Comunque Si Adamo secondo Benistan terzo The Wolf Campione mondiale Quarto Zanchi Chiude Settimo di giornata Ragazzi Zanchi Primo anno di mondiale 2 e mezzo Chiude decimo Anche lui 16 anni 16 anni Anche lui molto giovane Decimo Penso un bel Un bel futuro davanti Sei un po' al tempo Inizia la prima Manche M80P Con Erlings Che parte tutto interno Parte da merda Prado Parti in testa Ha rotto il cazzo Ha vinto la Manche Di qualifica E parte in testa In gara 1 Quindi Bello deciso Potrebbe partire Per il terzo quarto Cioè Crea un po' più di hype Con Geiser in testa Invece la Manche Si spegne E qui vediamo Erlings Che ha fatto Una bella Uscita di pista Si E' rientrato esattamente Dove era E' stato penalizzato Di tre posizioni Per questo Cosa ne pensi Cosa ne penso Difficile da dire Diciamo che c'è una regola Ed è stata rispettata Perché se esci di pista E rientri esattamente Nel punto Cioè Nella posizione Dove eri Chiaro Vieni Retrocesso Di qualche posizione Ok E' stata rispettata Ci siamo Però Insomma Guardiamo un po' Le situazioni Penso sia molto Peggio Quello che è successo A Geyser In gara 2 Che è volato fuori La prima curva Ha tagliato completamente Un destra Alla Lupino Nazioni 2021 Molto peggio Siccome è entrato Un attimo dopo Che se tu dici Se mi inizi a saltare Completamente una curva E mi fai così E vai in un altro Ritrindio ancora E' un po' peggio Capito Secondo me Esci dalla pista Bene Rientri Dove sei uscito Basta Fai la regola Ne parli con tutti i piloti Ragazzi Questa è la regola Basta Se tu esci dalla pista Nel primo giro Hai 40 piloti dietro Sei terzo Esci dalla pista E' come se fosse caduto Ritorna indietro E rientri Giusto o non giusto Bisogna vedere O se no Ci vuole un attimino Di cognizione di causa Di chi analizza la cosa Erlings comunque Partito non benissimo Recupera Fino ad arrivare Nella terza posizione Se non sbaglio Un forato Che Cazzo ragazzi Che gas È riuscito È riuscito a stare lì Con loro Secondo me C'ha tutta Naturalmente Pista dura Nessuna c'è pista Tutta la coniezione Di causa Che possiamo avere Però sì Però Buono In mezzo Quelli che conta La manche va avanti Senza nessun stravolgimento Prado vince Secondo Geyser Altri Tre punti recuperati E si arriva a 12 Per entrare come ultima manche Non è male No assolutamente Ultima manche Hai metà punteggio assicurato Se Geyser avesse vinto Prado avrebbe potuto fare Fino a ottavo Per vincere Seconda Gara Ed ultima Per fortuna Sia di questo GP Sia Del mondiale Ci sta Forato cade In partenza Ma La vera sorpresa È Jeffro Che parte lì Terzo Pensa Come è la stazione Lui dirà Oh Un pacco di laminate In me la togliere Intanto Già lì Sì come migliora La stazione Geyser esce Rientra Non gli vengono tolte posizioni Perché rientra È peggio Settima Ottava posizione Brutto però Geyser si stabilizza In seconda posizione E ora vorrei parlare Di un fatto Che è accaduto Durante la quali Reys Che a me non piace Ok Nel motocross Ok A me non piace Probabilmente È stato detto a Jeffro Di non passare Per farlo un pochino Capire a tutto il mondo Secondo me Ha sparato una penna Sul piazzale Ma mi hanno detto Che gli è stato segnalato Dal team Gas Gas Ma che cazzo dici Cioè Nel senso Se tu KTM Gas Gas O squad Nel gruppo È un unico Prima di partire Gli dici Guarda Cioè Se parti in testa Vai via Va bene Se sei lì Cioè Ne puoi parlare Prima hai capito Della cosa Secondo me Non che tu Team Gas Gas Da bella Non passare Cioè Ci sta che ha fatto la penna Potete fanno stoppi La fortuna Gli è venuto il nervoso E ha passato male Prado Cioè No C'è sì Ha buttato fuori Mondiale finito Parlando di mondiale finito Prado qua La alleggerisce leggermente La mazchilla Forse lo va a mazzizzarla Non lo so Secondo me È arrivato Sai L'alleggerita leggermente così La rota davanti Non ha forse calcolato bene Perché ha toccato Quando Sai Quando sei In leggera Screba Alleggerimento E tocca la rota davanti Brutto La pensione Le cose peggiori Ha toccato la rota davanti Tutto a posto È un gatto Per fortuna Salta fuori pista E secondo me Ha messo Come dicono gli americani Nello zaino L'orgoglio E ha detto Va bene Mi porto a casa Il mondiale Va bene Quarto Questa Non so Giudicatela voi Non ne parliamo nemmeno No Ci sta Lo capisco io Lo capisco Gara 2 Finisce Con Un gesto che vince Vince Ah anche Geiser L'ha messo per terra Non si è mica visto Non si è mica capito Ma a un certo punto Da 2 secondi È andato a 10 secondi Ultima curva York Prado 4 volte Campione del mondo Guarda com'è gasato 2MX2 2MX1 2MX1 Un primo stato Per gli storici 2MXGP Tanta roba In fila In fila Entrambi Perché hanno vinto 2 in 2 e mezzo in fila E 2 in 4 e mezzo in fila Dopo comunque Tutto l'apprendimento in 4 e mezzo Perché non è andato forte Cioè è andato forte subito Ma non teneva la manche Covid Long Covid Cicatrici Mille cose Cose 2 mondiali Prado Non è più quello che è Sai Così diventa Dopo si parla Vincere mondiale in 4 e mezzo in 4 e mezzo Non con tutti i piloti O perlomeno Non tutti al 100% L'anno scorso Quest'anno ci sono tutti Hanno fatto tutti Tutte le gare Ha vinto 10GP Non ci si può dire un cazzo Fa forte A me non piace personalmente Ma è un pilota Con il numero 1 Con il numero 1 C'è 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 Coraggio Fragole e champagne Ah vincere con il numero 1 Tabella rossa Cioè Quindi andiamo a vedere la classifica del GP Che vede Prado Vincere anche il GP Con un 25-18 Quindi non solo mondiale Ma anche GP Geiser secondo 22-20 Erlings terzo 15-25 Sarebbe stato di Erlings Questo GP Se non gli avessero tolto Le tre posizioni Per quell'uscita in gara 1 Ovviamente ragazzi È il momento Di prendere i telefoni in mano Andare a vedere Quello che avete detto Su questo Fine mondiale Partiamo con Melipaska 9913 Che dice sante parole Quelle di Jeffrey Ne abbiamo già parlato Giusto Ne pensiamo anche noi Pensiamo come Jeffrey Almeno un piccolo cambiamento Non diciamo Un miglioramento Alessio Zuffardi Ci dice Moto cavalcata Wisp Piemonte Lombardia Ci assomiglia È un collegamento Sì Fine fine Sotto sotto Il passo è breve Sì Sì MD00 Avrò sbagliato a dire Sicuramente il nome Sofferto nella fase centrale Ma ha dominato GP Finali Prado Top per Kai Top per Lucas Per Kato Per Sasha Sì Un Prado che Partito forte Attimo di stallo 3-4 GP Poi forte di nuovo Forte di nuovo Vince il mondiale Stallo Forte di nuovo Kai bene Lucas Ha dimostrato Che il prossimo anno È il più forte Vediamo se rimane in due e mezzo Perché si parla anche di MXGP Sul campo ufficiale Non farebbe schifo Jacopo Pasqualotto Ci dice In sintesi Come dice il nostro Tony Certe volte Bisognerebbe avere le palle Di non schierarsi E qui chiudiamo Secondo me Perché è tutto quello Che serve dire Perché Se ci fosse Un comitato piloti Un qualcosa di forte Che prendesse decisioni E non ci fosse Il pilota di turno Che dice Ah sì Voi non mi schierate Beh adesso Io mi schiero Così vinco il GP C'è stato Nel passato Con Calves Anche così Delle comitati piloti Non sono mai funzionati Io mi ricordo Un Tortellì Evers Che non si erano schierati Ad una gara E avevano rischiato Una squalifica esagerata Non sono mai funzionati Questi comitati qua Non so perché Andiamo alle pagelle Come al solito Sì Alla fine del campionato Entra nei flop Anche l'usk Il numero 96 Con una delle ceneri GP vinti Il mondiale Deve essere un po' Come quando Il tuo fratello Più piccolo Ti chiede di fare Una sfida Alla play Una formalità Basta cazzate ora L'ultima gara È la più importante Lucas Kone 5 E chi Se non l'olandese Più stiloso di tutti Poteva entrare Nella top Di questo mondiale Ci ha messo un po' Ma alla fine È girato tutto Dalla sua parte Una tabella rossa Talmente tanto cementata Da essere diventata Oro Kylie Wolf 10 Ci sono persone Che embollano Per molto Molto meno Si batte con gli avversari Con la sua KDM Contro il suo corpo E soprattutto Contro l'organizzazione Di GP Per creare Un mondiale Migliore Prima stagione completa Finita per uno storico Earnings 7 Alla fine del mondiale Si tira una riga E come spesso accade Sono gli episodi A decidere I vincitori Ed i vinti Quella maledetta pedana Probabilmente È costata il mondiale Geyser 9 Infortuni al pollice Vittorica La sua operazione Ritorna in gara E un po' di poti Fare rispare Ma rimane Uno dei top rider Fevre 5 Ci ha creduto Anche quando sembrava Spacciato E fuori forma Onore al merito Ed americani avvisati Sta arrivando L'oregano Prado 10 Finite le pagelle Ora di qualche Conclusione finale È finito Un altro anno Di MIGP Con Starpad Vi ringraziamo Veramente tantissimo Perché se stiamo Facendo questo È anche molto Merito vostro Che ci seguite Che interagite Che fate cose Ci supportate Che insomma Noi siamo pareti così Due anni Per scherzo Due anni Sono pochi comunque Figo Ci piace Prossimo anno Saremo di nuovo qua A commentare Il mondiale MXGP E riempiremo anche Lo studio ragazzi Il prossimo anno Non possiamo Tirare fuori tutto subito No no Infatti Se no dopo l'attività Dice cazzo Non fate niente Invece così Quindi ragazzi Seguiteci E ora uscirà Qualche video Extra Al di fuori Dei commenti Dei gare Tipo Non so Prove e sospensioni Cose In generale Cacchierate con piloti Stay tuned E Vi diamo appuntamento Al prossimo video Che sarà Il riepilogo Del super motocross Delle tre finali Del super motocross Ciao a tutti ragazzi